Il prossimo impegno è quello di risolvere il problema della mobilità nel Cilento, perché non c'è turismo che tenga senza condizioni di umanizzazione del territorio. Lo ha detto il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della diciottesima Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, in corso di svolgimento a Pestum. Un anno fa, proprio in occasione della Borsa Mediterranea, l'allora assessore regionale al turismo Pasquale Sommese disse che il 2015 sarebbe stato l'anno della Campania. Ora, ad un anno di distanza, gli fa eco il presidente De Luca. Innanzitutto sono d'accordo con Sommese, davvero il 2015 è stato l'anno della Campania, è stato preveggente, diciamo. A 2016 stiamo bene, stiamo sicuramente meglio che per il passato, ovviamente dobbiamo recuperare alcuni ritardi anche rilevanti che abbiamo nella programmazione dei fondi europei e così via. Siamo impegnati in un lavoro molto importante e molto di sostanza e credo che l'asse di sviluppo turistico della Campania sarà uno degli assi principali che noi valorizzeremo.